Altra spaccata nel Ravennate, questa volta ai danni della farmacia di San Pietro in Campiano, in via Petrosa, ad opera di due malviventi che nel pomeriggio di ieri hanno sfondato la porta di ingresso del locale e sono entrati rubando appena 20 euro. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza acquisite dai carabinieri. Mentre uno faceva da palo, l'altro ha buttato giù la porta di ingresso a calci e si è diretto verso il registratore di cassa. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile per trovare i colpevoli.